Ho sempre avuto questa fame di sapere di conoscere ciò che era nascosto tra le infinite pieghe del tempo il cambiamento dei meravigliosi luoghi del mondo Grazie a tutti è stata proprio la voglia di far luce sul passato che mi ha spinto a trascorrere ore tra archivi pubblici, parrocchie e documenti vecchi di secoli perché se è vero che il passato non fa l'uomo che sei è vero anche che aiuta ad essere più consapevoli della propria vita ed è la fortuna che il tempo con il suo scorrere incessante ci ha regalato grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.